Efficienza. Quanto sono veloci, efficienti e misurabili i tuoi processi di gestione eventi e allarmi? Se vuoi davvero riuscire a risparmiare tempo prezioso per garantire la massima protezione possibile a tutte le componenti della tua organizzazione, la soluzione per te è Zeta Supervisor, il Physical Security Information Management Zucchetti, che con un click ti garantirà tempi di reazione svalorditivi, secondo la regola 7 seconds or less, e il completo controllo di tutto ciò che accade in modo organizzato, razionale ed efficiente. Non aspettare che sia troppo tardi!